È il momento della verità. Borzov mette da parte le spacconate e torna a partire con tutti e quattro gli appoggi. Esce dai blocchi come una palla di cannone. Mennea è indietro. Borzov si distende, seconda posizione, Mennea. Borzov, Mennea, ma è difficile, Omer, veramente difficile. L'Olimpico applaude, è comunque soddisfatto. E l'aspettativa per la rivincita nei 200 metri è altissima.